Giovedì 1 dicembre 2016, circa 200 architetti hanno partecipato al convegno design e contract nell'hospitality, retail ufficio e residenziale, convegno di infoprogetto organizzato da action gruppo editore, strategie, arredo e allestimenti, questi i temi trattati nel convegno. Molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Fenix NTM come sapete probabilmente è un materiale innovativo per l'interior design utilizzabile sia su piani orizzontali che su piani verticali. A Firenze ieri sera abbiamo visto una delle applicazioni all'interno del ristorante L'Essenziale, dello chef Simone Cipriani, che fra l'altro è uno chef stellato. La scelta che è stata effettuata da parte del designer Moreno Vannini è stata quella di partire nella progettazione dalla scelta di tavoli in Fenix NTM. Tavoli che sono stati scelti per ovviamente proprio look estremamente opaco per la tattilità, quindi l'esperienza di soft touch che è possibile offrire ai commensali e anche proprio perché è un materiale antibatterico, facilmente pulibile e idoneo al contatto con il cibo. Durante la cena infatti è possibile servire alcuni piatti o avere degli elementi che vengono posizionati direttamente sul tavolo a diretto contatto con il materiale Fenix NTM. Un elemento peculiare che mi ha colpito è la possibilità di prendere le posate in modo autonomo da parte degli ospiti del ristorante aprendo un cassetto che è posizionato sotto il piano in Fenix NTM. Quindi c'è questa sorta di rito che ogni ospite può compiere aprendo il cassetto, prendendo la posata necessaria e posizionandola sul tavolo. Il designer ha scelto l'utilizzo di tavoli neri, quindi tavoli neri in 10 mm e ha scelto un grigio efeso che è questo grigio chiaro per un tavolo lungo che è sotto i quadri e per la creazione di alcuni elementi, di alcune forme a contatto con altri materiali.